Caso studio spettacolare su questo brand che davvero è riuscito a fare un'impresa e l'ha fatta nella maniera corretta, nella maniera che tutti possono fare ovviamente con tanto sacrificio e tanto lavoro ed in questo video andrò a spiegarti esattamente le loro tattiche in modo da implementarle nel tuo business quindi non perderti nemmeno un secondo di questo video dopo la sigla e benvenuti ragazzi Stefano Montano qui per voi oggi con un nuovo caso studio che voglio portare sotto la vostra attenzione perché veramente questi ragazzi hanno fatto, hanno creato un'opera hanno creato un'opera di e-commerce, di business, di imprenditoria incredibile ma prima di analizzare il loro caso studio e capire esattamente come sono riuscito a fare tutto questo ragazzi vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno e non usciranno un bel po' quindi date subito ad iscrivervi e attivare la campanellina ma partiamo subito con FilippoLoretti.com ovvero un brand filo italiano in quanto appunto loro hanno creato questo brand con lo stile made in Italy però ovviamente l'orologio non è made in Italy infatti adesso andremo a vedere hanno creato quindi questo brand di moda anche appunto di braccialetti in questo caso non hanno iniziato a vendere anche i braccialetti ovviamente abbinati all'orologio ok? sia per donna sia per uomo come vedete qui andiamo ad analizzare la loro pagina prodotto vedete che è fatta molto bene immagini di una qualità altissima che danno proprio l'idea che il brand ovviamente che sia un brand di qualità e che soprattutto l'orologio sia di qualità quindi capite bene addirittura qui mettono il video di YouTube vedete qua che bello con una qualità incredibile addirittura il riflesso di una specie di chiesa italiana se non sbaglio vediamo bene guardate che dettaglio incredibile si sembra comunque un edificio italiano antico incredibile basilica di San Marco appunto dietro ogni orologio devo dire che questi ragazzi hanno veramente creato un'idea di prodotto eccezionale vedete qua fanno un bel upsell, crosssell anzi di appunto di cinturini in metallo o in pelle ok? e spediscono in 48 ore quindi in appena due giorni velocissimi vedete bene qua i cinturini italiani in pelle addirittura in pelle italiana da quello che dicono tuttavia io voglio fare luce su un bel articolo che hanno scritto addirittura loro per appunto veramente dei geni per appunto diciamo spiegare questa situazione dello Swiss made dell'orologio, degli orologi fatti in Svizzera come hanno creato appunto questo diciamo articolo parlando bene e male di chi dice che gli orologi Swiss made fanno questo, sono quello ragazzi prima di tutto gli orologi in Svizzera sono i numeri uno al mondo ok da sempre, hanno una tradizione penso centenaria come i più grandi brand sono tutti appunto Svizzeri come Rolex eccetera eccetera loro cosa fanno? dicono invece di fare come i nostri competitors e definire Swiss made noi utilizziamo i migliori componenti precisi provenienti dalla Cina quindi di base questi orologi provengono dalla Cina io come dico in molti miei video non per forza tutti gli articoli provenienti dalla Cina sono di qualità scadente, anzi moltissimi prodotti sono di ottima qualità quindi non esistono solo cinesate di Aliexpress ma ci sono comunque trovate di tutto ci sono milioni di supplier di fornitori in Cina quindi detto questo comunque loro specificano appunto che ovviamente utilizzano materiali premium provenienti dalla Cina questo perché ovviamente costa 3, 4, 5 volte di meno fabbricarlo in Cina che fabbricarlo in Svizzera ovviamente può essere che comunque la pelle la vadano a ottenerla da qualche supplier italiano perché loro scrivono comunque pelle italiana comunque vabbè sicuramente la pelle costa in percentuale in Italia meno rispetto a quanto costerebbe fare un orologio svizzero che sono veramente veramente costosi produrli da zero quindi detto questo vedete che il prezzo è intorno ai 125 dollari per un orologio tra virgolette di russo non è tanto infatti loro esattamente come di Uno Milano un altro brand di orologi che fa più o meno lo stesso meccanismo del quale ho già parlato in un altro video che vi metto qui in alto a sinistra oppure ve lo trovate nel mio canale lo cercate proprio come loro quindi hanno creato questo brand intorno al Made in Italy al Design in Italy appunto utilizzando questa diciamo tutte queste caratteristiche italiane vedete qua addirittura in questo caso ovviamente il nome italiano Filippo Loretty però la cosa che fa sorridere è che ovviamente loro non sono italiani i co-founders ok uno e ci dovrebbe stare anche un altro che sono mi pare se non erro dell'Estonia o Lituania comunque un paese nordico e comunque non sono per niente italiani però hanno avuto quest'idea di creare questo brand stile italiano va bene quindi il brand è stato fondato ufficialmente nel 2013 e la cosa che però veramente ha fatto la differenza è stato principalmente la campagna di crowdfunding ovvero su Kickstarter per chi non lo conoscesse è un sito dove diciamo chi vuole, chi ha dei progetti, chi ha delle idee chi magari ha una start-up innovativa o appunto un progetto addirittura giochi di carte vedete qua ci sono una miliardi di progetti giochi eccetera eccetera qualsiasi tipo di progetto può essere finanziato da persone in tutto il mondo tramite appunto Kickstarter che diciamo è la piattaforma di crowdfunding più famosa del mondo e loro che hanno fatto hanno creato questa landing page veramente veramente fatta bene per descrivere appunto il loro prodotto la loro idea di Filippo Loretti quindi vedete che il loro diciamo prodotto originale appunto è questo qui diciamo il loro prodotto di punta dove è partito tutto quanto e loro hanno utilizzato appunto questa idea di orologio italiano comunque ispirato all'italianità ok che comunque ricordo ragazzi che il made in Italy comunque gli articoli soprattutto di moda provenienti dall'Italia hanno una risonanza all'estero che fa paura quindi loro ovviamente hanno cavalcato l'onda tra virgolette di questa italianità quindi del made in Italy nel mondo e hanno creato questo questo Filippo Loretti brand va bene quindi con il motto che gli orologi di lusso costano sopra i 1000 dollari mentre i loro orologi costano sotto i 200 dollari quindi capite bene che anche le persone che ovviamente vogliono sentirsi più ricche e avere brand magari possedere brand alla moda che costano di più ma non potendo giustamente permettersi dei costi elevati come per esempio per Rolex vanno a comprarsi un Filippo Loretti che praticamente è simile a questi grandi brand ma ovviamente costa 10 volte di meno ok quindi abbiamo visto qua tutta la loro landing page guardate quanto è lunga va bene veramente veramente fatta bene con immagini di qualità eccezionali vedete quanti orologi avevano ideato già ai tempi quindi loro hanno fatto questa campagna nel 2000 e se non erro quando è qui addirittura qua selezionano Milano probabilmente avranno anche delle sedi a Milano che comunque il brand comunque ha un nome italiano allora sicuramente però lo vendono in tutto il mondo potete trovare il progetto su Kickstarter è salvato ovviamente tutti i progetti sono salvati e potete vedere come il video promozionale vedete questo è un altro co-founder il video promozionale è fatto veramente veramente bene un video di marketing puro che dà l'idea veramente di un prodotto di altissima qualità venduto per 150 euro per esempio vedete qui le varie tipologie di vendita dell'orologio quindi loro chi vuole comunque sostenere questo progetto ovviamente riceve non è che dà i soldi gratis gratuitamente ma paga per ricevere il prodotto quindi oltre a credere nel prodotto loro ricevono proprio il prodotto perché gli piace quindi veramente Kickstarter non è facile perché la maggior parte dei progetti ovviamente non ha successo però se tu hai un'idea veramente veramente buona vuoi trovare dei sostenitori dei finanziatori lo metti su Kickstarter e se crei una landing page fatta bene come fanno loro come hanno fatto loro vedete bene come qui sono riusciti ad ottenere da 16.077 sostenitori la bellezza di 3.534.663 euro da i 20.000 euro iniziali che avevano chiesto quindi loro voi pensate andate a chiedere appunto su questo sito o in generale andate a chiedere 20.000 euro e ve ne danno 3.500.000 voi come reagireste penso che diventereste veramente veramente contesto incredibile ragazzi che è veramente tanto di cappello a questi due ragazzi che hanno creato una landing page del genere con appunto questa idea innovativa comunque perché non sono stati molti a sfruttare appunto il made in Italy comunque il design in Italy l'italianità appunto del fashion come hanno fatto loro vedete qua e ovviamente hanno preso spunto anche da molti altri orologi famosi ok e ci hanno praticamente messo l'orologo sopra ovviamente comunque i gli orologi sono di qualità altrimenti la gente non se li comprirebbe di nuovo e non avrebbero dei dei clienti abituali che è là veramente dove si riescono a vedere veramente risultati eccezionali ok soprattutto nel lungo termine quindi loro vedete qui nel sito web ritorniamo sul sito web e vediamo le reviews 715 veramente il sito fatto molto molto bene molto pulito qua con le foto di Instagram qua addirittura con il prodotto ok taggato sull'immagine che ovviamente anche sul loro profilo Instagram avranno tutti i prodotti taggati collegati direttamente al loro Shopify store sicuramente loro avranno un piano Shopify Plus che costa come 2000 euro al mese che gli permette comunque di modificare anche tramite appunto ingegneri informatici tramite codici di modificare il sito come meglio credono e ovviamente dà vantaggi eccezionali in quanto vedete bene che il sito comunque è fatto veramente veramente bene vedete qua tutte le garanzie e tutto quanto ricordo che questo risultato ottenuto da Filippo Loreti ovvero di milioni e milioni di dollari di fatturato all'anno è stato ottenuto in appena 5 anni e potenzialmente potrebbero tranquillamente rivendere il loro tutto il sito tutto il loro brand per almeno 100-200 milioni di euro quindi oltre a guadagnarci ogni anno con la costruzione del brand loro infine potranno volendo anche vendere il proprio brand a cifre incredibili quindi veramente veramente eccezionali vedete qua come comunque hanno hanno comunque foto incredibili di qualità con le immagini addirittura della basilica di San Marco di Venezia comunque anche altri su altri orologi hanno tutte caratteristiche specifiche ah un'altra tecnica che hanno utilizzato di marketing mi ricordo è che loro hanno come 500 unità per ogni una cosa come limited stock quindi per ogni per ogni tipologia di orologio loro hanno un numero definito limitato quindi per esempio ce ne sono 500 di questo 500 di questo e ogni orologio quindi acquista ancora più valore perché è unico tra virgolette quindi solamente 500 500 pezzi di ogni orologio per esempio adesso non mi ricordo esattamente quale modello però penso più o meno tutti ce n'era uno in particolare comunque che rendono ancora più unico di valore appunto il prodotto quindi questa è un'altra tecnica di marketing assolutamente vincente che chiunque può utilizzare ovviamente basta che crea un senso di urgency appunto nel prodotto che spero usiate tutti quanti la urgency che è fondamentale e andiamo quindi magari a spiare un po' come come fanno marketing tuttora questi ragazzi vediamo un po' facebook instagram instagram 116.000 va bene vediamo le foto incredibili con appunto paesaggi italiani vedete qua come seguono questa filosofia questo stile italiano incredibile ragazzi veramente veramente bravi vedete qua che foto spettacolari appunto raffigurano l'italia un po' di tutto anche c'è il deserto c'è New York vabbè effettivamente c'è un po' di tutto però devo dire veramente veramente foto eccezionale in profilo incredibile anche vabbè questa tecnica di utilizzare foto differenti è anche diciamo una tecnica che ho visto fare a molti brand che utilizzano comunque foto belle foto anche di personaggi famosi come in questo caso per comunque attirare l'attenzione di un pubblico anche più vasto quindi abbiamo detto che qui abbiamo youtube va bene questi video che utilizzeranno probabilmente nella product page qui abbiamo la pagina di facebook vedete 330 mila like con appunto questo nuovo orologio qui andiamo invece a spiare Filippo Oreti gli altri di Filippo Oreti con 330 mila likes che non sono pochi infatti probabilmente faranno vabbè sono anni che fanno infatti vedete dal 2013 sono anni che fanno ads vedete qui 22 persone dalla Lituania quindi loro sono della Lituania non Estonia infatti mi ricordavo un paese nordico e quindi vedere bene 920 ads vuol dire che stanno spendendo anzi investendo moltissimi soldi in pubblicità e ovviamente perché avranno un ritorno incredibile appunto ripeto i milioni e milioni di euro di fatturato vedete qua questa creative che cattura abbastanza l'attenzione qui c'è una tra virgolette una cliente oppure una reviews no vediamo qui questo video si ok puntano più sulle reviews sul social proof quindi vedete persone che sono contente visi di persone che sono contente che diciamo recensiscono appunto il prodotto mettono anche come detto in precedenza l'urgency grazie a sales closing soon quindi gli sconti stanno per terminare vedete qua con il video ho fatto veramente veramente bene qui altri ads ovviamente immagini con gli sconti che gli sconti ovviamente ragazzi gli sconti li decidono loro quindi ovviamente un'altra tecnica che molti utilizzano che per esempio loro comunque vogliono vendere un prodotto a 100 euro invece di mettere 100 euro direttamente mettono il prodotto a 200 scontato scontato il 50% a 100 euro quindi ovviamente questa è un'altra tecnica di marketing che dovete utilizzare invece di mettere il prodotto a 100 euro pieni mettete il prodotto a 100 euro scontato da 200 quindi loro i clienti avranno l'idea di comunque l'impressione di pagare la metà del prezzo invece del prezzo originario ok in verità voi avete il ricavate quindi il guadagno il profitto che avevate in mente in precedenza quindi ragazzi scontate tutto al 50% e ovviamente quel prezzo che volete voi abbiamo visto gli ads devo dire veramente veramente tanti andiamo a vedere invece più nello specifico appunto su Filippo reti le fonti di traffico 390.000 qui 340 350 370 vabbè facciamo una media di 350 la maggior parte di United States ovviamente dove comprano di più ok però non ci interessa adesso torniamo indietro quindi vediamo che comunque ovviamente United States ragazzi è mercato numero uno al mondo e se riuscite veramente a sfondare United States fate veramente un sacco i soldi perché United States sono il paese dove comprano di più in percentuale dove comunque tutti utilizzano carte di credito proprio come mentalità più aperta verso appunto l'acquisto online il mercato numero uno al mondo sono una marea di persone tipo 300 milioni di persone se non sbaglio più o meno quindi veramente United States è mercato numero uno ovviamente c'è più competizione gli ads costano di più e tutto quanto ma c'è un motivo perché dove c'è più competizione è perché c'è più guadagno in generale quindi la torta è più grande non ve lo scordate questo ragazzi direct search social 36% come abbiamo visto fanno una marea di pubblicità giustamente dove è qua social eccolo qua e quindi vediamo come il 78% del loro traffico social deriva da facebook e da facebook adesso abbiamo visto ne fanno veramente veramente tanti youtube 20% probabilmente le targeting anche youtube se non potrebbero anche utilizzare degli influencer di youtube volendo per esempio qualche personaggio famoso che sta magari che appunto parla del brand parla dell'orologio di com'è di quanto gli piace eccetera eccetera quindi influencer marketing quindi può venire può derivare da qualsiasi entità appunto che riesca ad influire un grande pubblico o un certo numero di persone quindi ragazzi youtube instagram facebook va bene qualsiasi cosa l'importante è fare le cose fatte bene quindi abbiamo visto anche questo sono però curioso di calcolare più o meno quanto fanno al mese ovviamente questo è un calcolo generico se noi prendiamo i 350.000 visite ok calcoliamo il il 10% di conversione quindi avremo un 35.000 35.000 persone quindi clienti che acquistano ogni mese da loro e moltipliamo questi questi 35.000 visitors che sono appunto il 10% di conversion rate tasso di conversione prendiamo un average order value considerando anche i cross sell vediamo più o meno 150 200 vabbè diciamo una media di average order value facciamo 150 quindi per 150 euro vediamo che loro fanno la bellezza di 5 milioni e 250 mila euro di fatturato mensile quindi come vi ho detto milioni e milioni di euro tramite la vendita appunto di braccialetti e orologi ok quindi come vi ho detto ragazzi ci sono un milione e milioni di brand però loro come fanno il loro marketing e il marketing è la cosa numero uno al mondo che vi ricordo comunque sono la maggior parte sono orologi prodotti con materiali cinesi ok quindi se voi volete per esempio fare la stessa cosa creare un brand simile dalla cina dovete semplicemente andare su alibaba e cercare magari per esempio abbiamo visto il loro number one diciamo il loro orologio numero uno è questo qua blu quindi con la luna e il sole quindi se volete magari creare un brand con un orologio o un prodotto ok simile a questo qui potete prendere ispirazione anche da altri diciamo altri orologi famosi va bene come per esempio Patek Philippe che è uno dei brand più famosi al mondo Swiss Made quindi Made in Svizzera vedete qua che hanno diciamo appunto la loro peculiarità diciamo uno degli aspetti più famosi di questo di questo brand di questo appunto brand svizzero che veramente penso costi una cosa come 50.000 dollari anche loro 50.000 almeno comunque famosissimo vedete loro hanno anche loro il motivo del sole della luna qui con dentro l'orologio e se voi andate a cercare su Alibaba i supplier che forniscono questo tipo di prodotti questo tipo di orologi vedete qua ne trovate una marea guardate questo che bello anche per 27 dollari lo vendete per per esempio 150 va bene qua ce ne sono una marea quindi sta vedete pure questo che bello questo 250 esagerato però se la qualità è buona potete anche provare a vendere a 500 che ne so va bene quindi tutto in base al marketing intanto ragazzi quindi è una cosa che voi dovete giostrarvi che dovete appunto amministrare il marketing del vostro brand vedete qua pure questo che bello quindi ragazzi come vedete è una cosa possibilissima che chiunque può fare come hanno fatto questi due ragazzi creare quindi un brand appunto di lusso ok ovviamente i prodotti ragazzi devono essere di qualità dovrete comunque testare chiedete al fornitore un esempio con il vostro logo magari ci mettete appunto voglio creare un mio brand di orologi ci metto Stefano Montana sopra e me lo faccio inviare ok così vedo pure com'è il packaging il appunto il materiale dell'orologio e tutto quanto va bene ragazzi quindi capite bene che è tutto su di voi ragazzi dovete voi proprio impegnarvi a cercare quel prodotto quel prodotto unico anche quell'angolo come hanno fatto loro di dargli quel senso di italianità al prodotto che fa tutta la differenza del mondo capite bene che se vi posizionate come brand di lusso in una maniera del genere fate un sacco di soldi e ovviamente però non è facile perché loro sono stati bravissimi ma sta di fatto che questo è un altro un altro caso studio provato e dimostrato che sono partiti da zero e sono usciti in pochi anni cinque anni praticamente nulla considerando i brand tipo Rolex che esistono da centinaia di anni penso ma molto almeno 50 minimo che comunque hanno costruito il loro brand durante veramente tantissimo tempo e adesso c'è la possibilità grazie ai social media grazie alla pubblicità a pagamento diretta di ottenere risultati diretti appunto e soprattutto di costruire qualcosa in maniera molto più rapida ragazzi molto più rapida come non poteva accadere 10-20 anni fa ok adesso è possibile quindi ragazzi vi tocca a voi mettetevi a lavorare mettetevi in ingegno soprattutto e non smetterò mai di ricordarvelo e di dirvelo proprio apertamente che la strada non è facile la strada del successo non è facile per nulla è per questo che vi invito a ogni volta a studiare per bene prima di prendere ogni azione soprattutto investire denaro e fare le cose come vanno fatte per bene non fare marketing a caso targetizzare correttamente la nostra audience quindi ragazzi è tutto in mano vostra è proprio qui il bello voi siete artefici del vostro destino finanziario economico di business di successo di vita di tutto quanto quindi prendete in mano la vostra vita in tutti i sensi e soprattutto io so che a voi piace essere aiutati a me piace aiutarvi quindi vi invito a commentare sotto il mio video se avete qualche domanda vi andrò a rispondere personalmente a tutte le vostre domande e soprattutto vi metto qui alla mia sinistra il mio prossimo video che dovete assolutamente vedere perché ho scelto appositamente per voi e so che vi sarà super utile quindi basta che cliccate qui alla fine del video alla mia sinistra vi mando un grande saluto un abbraccio e ci vediamo al prossimo video un abbraccio ciao a tutti